Bo! Bo! Bo sei con noi! Ciao amici! Lui è Daisy e io sono Bo, il mago! Siete pronti a partire? Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Il movimento è via, mi date l'energia E poi salire su! La bo potenza è qui, si è bella che è così! Bo bo bo... Sei con noi! Se c'è da fare, stai, ti aiuteremo noi! Muoviti di, e anch'io lo farò! Non smetteremo mai, ci muoveremo e poi La bo potenza riceverò! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Bo sei con noi! Tutti insieme andiamo dai! Massima bo potenza! La minestra puzzolente! Ciao amici! Che bello che siete qui! Nel mio castello c'è proprio un cattivo odore oggi! Cattivo odore! Vai via! Dobbiamo assolutamente scoprire la causa di questo cattivo odore! C'è soltanto una persona che potrebbe saperlo! Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire! Volete aiutarmi? Viva! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto! Dobbiamo impegnarci molto per riuscirci! Dobbiamo entrare nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere! Spostate quei giocattoli e tutto il resto così entreremo in azione presto presto! Siamo quasi pronti! Ecco! Adesso siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria, così! Ora ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massimo a bo' potenza! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Desi e Bo! Per mille puzzole! C'è qualcosa che sa di pesce, Marcio! Dobbiamo scoprire subito da dove proviene questo cattivo odore ed eliminarlo! Vai via, cattivo odore! Cosa potrebbe essere? Fatemi vedere! Ahah! Lo temevo! E' lo snork! Lo snork! Ehm... Che cos'è uno snork? Lo snork è una creatura maleodorante che una volta l'anno fa una minestra puzzolente a base di cibo! Davvero ripugnante! Non sapete cosa mette nel recipiente! E' la sua minestra puzzolente che sta appestando il castello! C'è soltanto una cosa da fare! Bisogna trovare lo snork e riuscire ad eliminare questo terribile odore prima che impuzzolentisca tutto il mondo! Per trovare il puzzolente snork dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte! Non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! Lo snork! Presto! Chiudi la porta! Trovate quelle tre porte e troverete lo snork! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozona? Bene! Allora conto fino a tre! Poi correte con me! Uno, due, tre... Via! La camera delle porte! Coraggio, amici! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare... Potete marciare... O camminare... Ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima bo' potenza! Forza, amici! Correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Un bel fiore! Pensate che ci siano dei fiori dentro? Sarà piacevole sentire il loro profumo dopo lo sgradevole odore dello snork! E' chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come un albero! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta del fiore! Oh! Coraggio, amici miei! Wow! Che splendido giardino di fiori! Vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! Proprio in fondo al giardino di fiori! Credo che sarà super facile! Facci picchia! Questi fiori sono davvero gentili! Molto affettuosi! Scusate! Fiori! Potete lasciarci passare? Ehi! Lasciateci andare! Troppo gentili! Troppo affettuosi! Come facciamo a raggiungere la nostra porta? Questi fiori sciocchini non smettono di abbracciarci! Benvenuti nel giardino dei fiori affettuosi! Questi fiori sono gentili! A loro piace abbracciare! Li diletta così tanto che è la cosa che preferiscono fare! Ma come faremo adesso a liberarci dall'abbraccio dei fiori? Per liberarvi dai fiori dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per liberarci dall'abbraccio dei fiori? Una medusa che si dimena? Un cavallo che galoppa? O una scimmia che si arrampica? Una medusa che si deodora? Voglio dire che si dimena! Attima scelta! Per liberarci dall'abbraccio dei fiori dobbiamo dimenarci, dimenarci, dimenarci come delle meduse! Guardate come fa Desi! Diventiamo delle meduse anche noi! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre! Poi fate come me! Uno, due, tre... Via! Dimenatevi in su, dimenatevi in giù, dimenatevi come vi piace di più! Lasciami andare! Coraggio amici medusine, dimeniamoci! Dimenatevi, dimenatevi, dimenatevi più che potete! Dimenatevi e questi fiori ci lasceranno andare, vedrete! Continuate a dimenarvi medusine! Oh oh! Mi serve altra energia! Dimenatevi con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico abbracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massimo abbo potenza! Dimenatevi, dimenatevi medusine, forza! Siamo quasi arrivati alla porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il giardino dei fiori affettuosi! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! È stato davvero un bel ballo! La seconda porta! Un pomodoro! Spero che non ci siano delle piante di pomodoro affettuose lì dentro! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super, favoloso! Allora allunghiamoci! Alti come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su le braccia tendiamo! E... Sardiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del pomodoro! Ma questa è una pizzeria! Che profumino delizioso! Una pizza enorme! Una pizza davvero enorme! Per caso vedete l'ultima porta? Ehi! Eccola lì! Forza, amici miei! Bisogna entrare in azione! Mi scusi, signor Cuoco Ma questa enorme tinozza ci blocca il passaggio Coraggio, Daisy! Bisogna spostare questa cosa È troppo pesante! Vediamo cosa c'è lì dentro Pomodori! Tonnellate e tonnellate di pomodori! Mi chiedo come faremo a spostare questa tinozza piena di pomodori! Benvenuti in pizzeria! Se da qui volete passare il capo cuoco di questa cucina dovete assecondare! In salsa i pomodori dovrete trasformare per poter continuare! Questo significa che dobbiamo schiacciare tutti quei pomodori! Ma come? Per schiacciare i pomodori dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per schiacciare questi pomodori? Un piccolo insetto che cammina? Un elefante che calpesta? O un uccello che vola? Un elefante che calpesta? Ottima scelta! Per schiacciare i pomodori e farne una salsa dobbiamo calpestarli come fossimo degli elefanti! Guardate Daisy come calpesta! Facciamo gli elefanti anche noi! Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre e poi calpestate con me! Uno due tre via! Pestate, pestate, pestate come delle macchine attrezzate! Pestate, pestate, pestate fatemi sentire il rumore che fate! Pestate con i piedi pestate forte schiacciate bene tutti questi pomodori! Oh oh! Ho poca energia! Pestate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Coraggio elefanti! Pestate, pestate, pestate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! massima bobotenza! Massima bobotenza! Ancora pochi pomodori, amici miei! Continuati a pestare! L'ultimo pomodoro! sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato la pizzeria! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici! Ballate! Ballate! Bel ballo, amici miei! Grazie! Il libro di ricette del cuoco! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Oh oh! È lo snorco! Non è chiusa! Oh! Wow! Che puzza c'è qui dentro! Allora, amici miei! Cerchiamo di trattenere il fiato e andiamo a scovare quello snorco puzzolente! Per tutti i cavoli e le puzzole sta cucinando una cosa davvero nauseante! Magari se usassi un'altra ricetta la sua minestra avrebbe un odore migliore! Non posso leggere il tuo libro di ricette, Daisy! Sto tentando di pensare a come eliminare questo cattivo odore! Questo è buono, vedi? Aspetta un momento! Il libro di ricette del cuoco! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Sediamo allo snorco una nuova ricetta da preparare! Non cucinerà più cose puzzolenti! Datti da fare! Shhh! Amici, state a guardare! Svelto, Daisy! Stiamo a vedere se funziona Funziona! Funziona! Sta aggiungendo ingredienti profumati! Ora l'odore è proprio migliorato! Direi che abbiamo risolto il problema, amici! Non so cosa stia cucinando lo snorco adesso ma di sicuro ha un buon profumo! Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici! Abbiamo scovato lo snorco e eliminato il cattivo odore dal castello! Sì! Finalmente lo snorco mangia cibo sano! Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo! Il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza! Vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate continuate a muovervi e sempre in azione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!